Ciao a tutti, hello everyone, today I will prepare spaghetti alla carbonara light with meno colesterolo. Oggi facciamo carbonara light con meno colesterolo. Questi sono gli ingredienti. Spaghetti, 200 grammi per due persone. Un uovo, formaggio piccolino oppure parmigiano origano. Guanciali, se non trovate usate la pancetta. E pepe, pepe nero. E poi ho già messo il tutto l'eggo dentro della pancetta. Mettiamo insieme il formaggio piccolino. Mettiamo insieme il formaggio piccolino. E poi continuiamo a mixare. e poi mixiamo l'eggo e il pollo con il formaggio piccolino. E poi mixiamo i due giorni edificano la pancetta. E poi mixiamo tutto l' becomescola. E poi mixiamo gli ovi e la pancetta. E poi mixiamo tutto il formaggio piccolino. E poi mixiamo tutto lo colore. E poi mixiamo il formaggio piccolino. Just like this. First tip, for the pasta carbonara, you have to boil the water. Like this one. Intanto facciamcoche la pasta. Eso prepariamo la pancetta. And now we will prepare the viccon in una padella. In one farm. Without oil. Sinsa olio. E devi girare. Aggiungiamo tutto insieme. we put all together the cream inside of fine mix all together continue a girare just like so gira vai una mista meo piatto spaghetti alla carbonara light thank you for watching